E rimane autenticamente solamente che si muovono al di fuori del consenso democratico, della Costituzione, della Vesca. Che hanno, come loro pensano, ideologico e politico, però, anche se sappiamo che dovranno essere a fine e a nascente, forci, forci di rapportare, di ridurre le libertà che ci hanno lasciato in erediente la libertà di Daviano. Allora ci potessero esistere, quali giornali, 945?